6 aprile, Carbonara Day e come promesso eccomi qua a fare un piccolo video per raccontare le origini di questo straordinario piatto che è la carbonara. Piatto romano, per tutti è un piatto romano, poi andremo a ricercare un po' le origini, però bisogna partire innanzitutto da una cosa, i romani non mangiavano pasta. A Vita Rugantino abbiamo un menù del 1847 dove, tra l'attoria del prete di Via Condotti, dell'epre di Via Condotti, dove non ci sono tracce, c'è soltanto la pasta garofolata che è col sugo e burro e parmigiano, i restano tutte minestre, i romani erano minestrari. La pasta arriva successivamente, tutti gli intingori vari. Però torniamo invece alla carbonara. La prima apparizione dell'uovo all'interno della pasta la troviamo nel Cuoco Galante 1773 che Vincenzo Corrado traccia, perché io parlo di ciò che troviamo scritto, e poi ne parlato se ne va un gran parlare. Io ho fatto delle ricerche storiche per andare a ricercare proprio le origini. Vincenzo Corrado, in questo cuoco campano, traccia l'uovo all'interno dell'epreo, viene considerato un po' più come addensante che come lo conosciamo noi. Successivamente lo ritroviamo nella cucina teorico-pratica di Polito Cavalcanti, ma anche là sempre come un addensante. Poi abbiamo ancora dei tratti del 1881 con il Principe dei Cuochi di Francesco Palma, ma parla anche lì di maccheroni, cacio e ova, ma sono formaggi con uovo e sugna, quindi potremmo andare un po' così a un qualcosa di simile. Ma chi detiene un po' la cucina romana per eccellenza è Adaboni e per quello che ci ha tramandato lei già nel 1929 nel suo libro di cucina non fa assolutamente traccia dell'esistenza della carbonara. Dov'è che troviamo la prima apparizione? Allora, la parola carbonara, pensate un po', la prima volta la sentiamo su un film, un film del 1951 dove Aldo Fabrizzi, nel film Cameriera a bella presenza cercasi, interroga appunto la Cameriera Maria, interpretata da Nel Samadini, e le domanda, ma la sai fare la carbonara? Anzi, precisamente, la frase è questa, scusi, senta un po', ma lei sa fare gli spaghetti alla carbonara? Quindi parliamo già di spaghetti. Questa è la prima traccia della parola spaghetti alla carbonara. Lei scuotendo la testa praticamente dice di no e lui domanda che cosa sa fare? Dice, beh, aracuo, pomodoro, borro, ma questa è roba da ospedale, da clinica. Ecco, questa è la prima apparizione per quanto riguarda la parola carbonara. Successivamente nel 1960 Luigi Carracena nel suo libro La Grande Cucina appare per la prima volta la ricetta della carbonara e udite udite con la panna. So che fai non ridire tutti, ripeto, da meno non mangerete mai la carbonara con la panna, da noi guanciale, pecorino e rosso tuomo. Ci aggiungiamo un pizzico di parmigiano reggiano 36 mesi, che per me è comunque qualcosa di esterno, ma sul suggerimento di un mio carissimo amico, un ottimo cuoco, oggi ha finito di operare, ma è un grande cultore della cucina, Mario Tatta, Mario Taurelli di Nettuno, conosciuto come Mario Tatta, mi ha consigliato di aggiungere questo pizzico di parmigiano inteso a mio parere come umani, cioè quel sesto gusto trovato dal famoso chef giapponese, di cui oggi se ne fa un tanto parlare di questo umani, e devo dire che non è male, ma non si deve sentire, ma deve essere rigorosamente a 36 mesi, ed è comunque per me un'aggiunta, perché la natura guanciale, pecorino e rosso tuomo, punto. Ma torniamo a quello che è scritto, dicevamo Luigi Carnacina nel libro La Grande Cucina, scrive la prima volta una ricetta chiamata Spaghetti alla Carbonara, dove c'è il guanciale. E un altro straordinario chef che secondo me, per la mia generazione perlomeno, anche perché ho avuto l'onore di fare un breve stage con lui, Gualtiero Marchesi, Gualtiero Marchesi addirittura suggeriva un quarto di panna per fare un'ottima Carbonara. Tutto ciò premesso, ora vediamo quello che vi posso raccontare io per le esperienze fatte proprio nel personale. Per quanto mi risulta, la Carbonara così come la conosciamo noi, nasce alla trattoria del Cavallaro alla Garbatella, dove i soldati americani, ecco perché oggi con il post che ho fatto, parlavo di quel bellissimo video fatto dalla Barilla, i militari andavano lì e mangiavano quella pasta che noi chiamiamo gricia, che anche là c'è una ragione, quella era la pasta che facevano i pecorari, perché chi è romano lo sa, i pecorari a Roma, anche nella periferia, la domenica giravano le pecore per le strade, e quando i pecorari andavano in transumanza portavano con loro padella di ferro, guanciale e spaghetti, cocendo gli spaghetti facevano sciogliere il guanciale, quindi il guanciale non era tanto quanto, ma era per la sugna che cacciava, ci saltavano gli spaghetti e ci mettevano un po' di pecorino, questa era questa pasta che veniva chiamata la gricia perché? Perché siccome i pecorari hanno un linguaggio molto personale e se capiscono solo loro, i romani chiamavano i greci, cioè i greci, e da lì la pasta alla gricia, ed era molto in poca, molto mangiata nelle trattorie romane, i soldati americani che si trovarono, e questo me ne ha parlato il nipote, personalmente il nipote del cavallaro, e vedendo questa pasta con questo guanciale che gli ricordava un po' la loro colazione con il guanciale, nella loro razione K avevano una polverina che era un surrogato dell'uomo e ce la buttavano sopra. Sto cavallaro provo a assaggiare questa pasta e disse che è proprio buona questa pasta con questa polverina sopra. e la prima carbonara che fece proprio lui la fece con il rosso d'uovo sodo e provate a farla perché non è male. Quindi, rosso d'uovo sodo schiacciato, amalgamato con un pochino d'acqua della pasta, pecorino, quindi si crea questa cremetta, poi ci versate sopra la pasta e il guanciale e mi devo dire che oltre ad essere sicuramente meno aggressiva rispetto a quella che ci piace a noi è molto buona, non perde granché. Poi successivamente è stata fatta così come la conosciamo noi e come la faccio io.